Buongiorno a tutti, mi è mai capitato di pensare tanto ad un argomento, di cercare di trovarne veramente così tanto il significato da perdere poi in realtà nella vostra testa il vero significato di quella cosa? Ecco, questo credo sia quello che sia successo con la fotografia. Perché è successa questa cosa? Dunque, prima di quest'estate ho comprato un libro che molti di voi conosceranno, un libro famoso in ambito fotografico, è questo qui, si chiama La Camera Chiara di Roland Barthes. È un libro, diciamo, famoso perché era anche molto, diciamo, discusso in ambiente fotografico, perché è scritto da una persona che in realtà non era un fotografo, ma era un filosofo e quindi si è dedicato proprio all'analisi filosofica della fotografia. Lo fa in un modo molto filosofico, per quanto mi riguarda almeno molto accademico, probabilmente in mano a un filosofo, magari sarà un librettino, un fumetto questo, ma in mano a me, che insomma si, filosofia l'ho studiata al liceo, ma diciamo poco c'entra, credo, insomma con l'essere accademici vicini alla filosofia, ecco per me, insomma, è stato leggerlo abbastanza complicato. Devo dire, mi aveva messo in guardia il buon Gianluca Bocci che quando l'ho comprato ho fatto una foto al libro, a copertina del libro e l'ho messa su una storia Instagram e mi ha risposto Gianluca dicendomi, attenzione, insomma, un libro un po' tosto, pieno di riferimenti che insomma bisogna andarsi un pochino a cercare, altrimenti si capisce poco di quello del significato del libro. Devo dire che è vero, lui mi ha detto, sono più che sincero e esaustivo in un paio di messaggi sul modo in cui ha scritto il libro. Io ho un po' ignorato questa cosa delle citazioni, praticamente tutte le citazioni che sono qui dentro e ce ne sono in continuazione, io non le ho cercate, non le ho capite di conseguenza e quindi probabilmente ho capito meno della metà del libro, non lo so, anche perché appunto è complicato da leggere, poi l'ho letto a pezzetti perché comunque è faticoso un pochino da leggere, però credo qualcosa di averla comunque interiorizzata. Mi riprometto di ripassarci, sopra di rileggerlo magari andando ad analizzare un pochino meglio le citazioni e altre cose insomma un po' complicate da capire. Ma perché vi sto parlando di questa cosa? Perché comunque in ogni caso leggendo questo libro si va appunto ad analizzare la fotografia da un punto di vista del senso della fotografia, del motivo della fotografia, del perché. Peraltro, ripeto, lui non essendo fotografo e parte inizialmente proprio dicendo che lui non analizzerà il punto di vista del fotografo, perché dice che la fotografia può essere analizzata da tre punti di vista, da parte del fotografo, da parte del soggetto e da parte dello spettatore che poi guarderà la foto. E lui ovviamente scarta a priori di analizzare la fotografia dal punto di vista del fotografo e la va ad analizzare dagli altri due punti di vista, cioè quelle del fotografato, cioè del soggetto e dello spettatore che fruisce, che guarda la foto. Leggendolo ci si fanno molte domande, più che trovare risposte qui secondo me, ecco, si trovano molte domande, lui in realtà arriva a una conclusione, ma ovviamente il nostro pensiero leggendolo è comunque di farci anche noi delle domande, di mettere anche un po' in discussione quello che ci dice l'autore del libro. E quindi, insomma, la fotografia proprio in generale, il nostro modo di fotografare e il mio modo di fotografare, insomma, è stato messo un po' in discussione. O comunque ho cercato di trovare il perché rispetto a quello che faccio io in fotografia, per capire se è giusto, tra virgolette, insomma, se per me ha senso farlo o non ha senso farlo. E già questo mette molto in discussione il fotografare, già così si tende veramente a scattare meno e a pensare di più. Poi, mentre leggevo, mentre stavo per finire questo libro, ero in vacanza, quindi ogni tanto, insomma, col cellulare girellavo su Amazon cercando cose, e ho comprato un altro libro, sempre simile a questo, vedete questo è piccolino, no? Piccolino però è un bello premio, eh? insomma, abbastanza, ci sono anche delle immagini dentro, sì, però non è un libro con, diciamo, delle fotografie, sì, ce n'è qualcuno ogni tanto, però fondamentalmente è un libro scritto, e ripeto, quello che è scritto è scritto anche molto pieno. Allora, non so come sono inciampato in quest'altro libro, sulla fotografia, Leonardo Sciascia. Da come era scritto il titolo così, pensavo fosse l'autore Leonardo Sciascia. In realtà non è proprio così, è un libro a cura di Diego Mormorio, immagino si dica così, Mormorio, non Mormorio, chiedo scusa se ho sbagliato, che è uno storico della fotografia, ma non solo, insomma, ha scritto vari libri, e è una, diciamo, raccolta, un'analisi del pensiero di Sciascia sulla fotografia, e quindi in realtà c'è una parte scritta, diciamo, da Mormorio, ma, diciamo, ci sono riportati degli scritti di Sciascia. Questo è ancora più piccolo da leggere, perché c'è una parte introduttiva, dopodiché ci sono un po' di fotografie con vicine dei pezzi, diciamo, di opere di Sciascia, e poi alla fine c'è un'altra parte che è in realtà un saggio, diciamo così, integrale di Sciascia sulla fotografia, la fotografia come Entelechia, Entelechia, credo si dica così, anche qui, non so se sbaglio l'accento, che è un concetto aristotelico per indicare una realtà compiuta, non scendo nei particolari, perché, insomma, anche qui ho fatto fatica a leggerlo, pensavo fosse più leggero, cioè più tranquilla come qua, invece, insomma, anche questo è abbastanza cervellotico, filosofico, mettiamolo così. Peraltro l'assurdità sta nel fatto che questo libro fa riferimento a questo e lo cita anche, cioè anche nel leggerlo intanto mi sembrava di, insomma, di riprendere un pochino i concetti di questo e poi a un certo punto lo va proprio a citare, a farci tutto un discorso, Sciascia, su La Camera Chiara di Roland Barthes. Quindi questo è stato proprio un caso, ma il punto è proprio che dopo aver letto questi due libri faccio un pochino fatica a scattare fotografie senza pensare ogni volta che scatto sì, vabbè, ma perché sto scattando questa fotografia, sì, vabbè, ma qual è il senso della fotografia che sto facendo? Della fotografia non nel senso della foto, dell'immagine che sto scattando, della fotografia che sto intraprendendo, no? E questo è quasi un male, nel senso che un po' mi frena, però allo stesso tempo spero, insomma, mi porterà poi ad avere un po' più di consapevolezza negli scatti e quindi questo dovrebbe anche migliorare questa, insomma, la qualità delle, non dico delle mie foto, però quantomeno di questo mio viaggio di questa mia esperienza nella fotografia. Peraltro, quando poi vi andate, dopo aver letto libri come questi, vi andate a sfogliare qualcosa come questo Peter Lindbergh, questa è un'antologia, chiamiamola così, è un fashion photography, con le foto di Peter Lindbergh mi rendo anche conto del perché, del perché di alcune foto, diciamo, di Lindbergh, del perché anche dell'approccio di Lindbergh alla fotografia di moda, molto più intimo, molto più sensato, molto più, è così, molto più sensato, cioè, con un senso che non sia solamente quello di mostrare gli abiti, ma, insomma, con dietro qualcosa di più. Peraltro, l'altra cosa che succede, dopo che vi leggete dei libri come questo, è che tutte le, 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 lucubrazioni sulla risoluzione, sulla grana delle immagini, ci stavo ripensando adesso a questa cosa, no? Perché volevo fare qualche video un po' più, magari, tecnico, sul digitale, ultimamente parlo molto di analogico e poco di digitale, avendo letto questo libro, in realtà, diventa più complicato, proprio perché l'approccio alla fotografia che, insomma, ho un po' respirato in questo periodo, avendo letto questi libri, è molto più intimo, molto più filosofico e per cui, appunto, quando vedete scatti, adesso prendo uno a caso, non a fuoco, mosso, pieno di grana, dove si ponete questo, questo problema? Quanta grana, ecco, c'è in questa foto, che è del 1985, peraltro, andando a leggere la di Tascalia, quanto, non lo so, ci perdiamo del dettaglio nelle alte luci, la chiave di lettura a queste foto, ma adesso ho preso questo, ma potevo prendere un libro di Salgado, potevo prendere, insomma, altre cose, anche, ad esempio, un altro libro, che vi faccio vedere al volo, questo libro è un libro un po' particolare, si chiama Mid-Centuries Memories Anonymous Project, è di Anonymous Project, è un libro dove c'è una raccolta di foto di persone anonime, nel senso che chi l'ha compilato, ecco, questo libro, ha raccolto una serie di immagini raccogliendo, in giro, negativi, o foto, insomma, stampate, penso in particolare negativi, dai mercatini, quindi, chi ha fatto questa raccolta non sa esattamente chi erano queste persone, la particolarità, poi, in questo libro, è che sono tutte foto da pellicola Kodak Roma, che era comunque una pellicola storica di Kodak, e, se volete, anche un po' dai ricchi, ecco, scosticchiava, la usavano i professionisti, perché questo è, in qualche modo, anche collegato a questo. C'è una considerazione che a me, che io ho tratto, magari non era così importante all'interno del libro, ma per me, invece, vale molto, di Roland Barthes, che fa riferimento proprio all'importanza del momento in cui è stata scattata la foto, e dei particolari involontari messi nella foto da parte del fotografo, che magari sta fotografando un qualcosa, ma tutto ciò che c'è intorno, anche, per esempio, le persone che passano nel momento in cui si fotografa in pubblico, tutti quei dettagli, in realtà, chi le guarda, poi, li può andare ad analizzare, e vedere, non so, l'abbigliamento delle persone in un determinato momento storico, no? e fa un riferimento che mi sono sostrasottolineato, ho scritto anche una nota a margine scritta da me per ricordarmelo, ricorda quanto è importante, quando fate una fotografia, in particolare quando la stampate per ricordo, scriverci la data, l'anno, quantomeno, in cui è stata scattata la foto e magari il luogo, proprio perché una fotografia è un'immagine non solo del soggetto, ma proprio di un momento, e per questo, in qualche modo, questo libro è collegato a questo pensiero. Questo è forse l'unico insegnamento pratico che ho trovato all'interno, diciamo, di queste letture, ma ovviamente è niente rispetto a tutti i pensieri, ai ragionamenti, da un punto di vista del senso della fotografia, che sono qui, questi due libricini, che appunto, peraltro, ho anche capito molto poco, cioè poco nel senso di percentuale, sono proprio dei pezzi che ho letto, ho riletto, ma poi mi sono reso conto che se non andavo a fare delle ricerche per capire il riferimento anche semplicemente di alcuni termini, effettivamente non avrei potuto capire bene quei passaggi, insomma quei paragrafi, per cui in questa prima lettura li ho anche saltati e sono arrivato un po' anche direttamente alle conclusioni dell'autore. Quindi immagino che andando avanti, che rifacendo questo giro, approfondendo di più, potrei comunque trarne ancora di più, ma già così, già così, c'è un bel po' a cui pensare. Per questo motivo, almeno per il momento, sto scattando un po' più in analogico, proprio per, non lo so, ragionare di più, pensare di più, far meno caso al dettaglio tecnico e più invece al dettaglio dell'immagine finale, nel soggetto, e non solo del soggetto, ma un po' a quella che può essere poi ciò che sto trasmettendo al fruitore, a chi guarderà la foto, anche se quello magari sarò solamente io. Sietevi che cosa ne pensate, vi lascio ovviamente in descrizione i riferimenti a questi libri. Se avete avuto anche voi ogni tanto degli stordimenti, da un punto di vista proprio del come approcciarvi alla fotografia e il senso che date alle fotografie che fate, alle fotografie che fate vedere. Grazie mille di avermi ascoltato, come sempre buona fotografia. E alla prossima, ciao ciao!